Spero che al momento delle decisioni io sia ancora a buon livello di essere convocato per questa partita in Giorgia. Contento di essere rimasto a Bologna. Mentre attenzione Stefano, conclusione di Recoba. Era quello che cercavo, ho avuto delle proposte molto interessanti, però penso che questa sia la mia dimensione dove mi sono realizzato e mi posso realizzare ancora di più come giocatore e come uomo. Grazie. Avete visto la conclusione, il pallonetto cercato da Alvaro Recoba da un anno con Simeone. Spesso si alterna nel ruolo di seconda punta. Da linea. Il Logroñez ha perdito otra opportunità per salvarsi. Lluvia embalaidos e prima occasione per i blanquirrojos in questo risparo di Ruben Sosa che si va a larguero della porta di Diezma. Il zurdazzo del uruguayo ha sido esplendido. Grazie.